oggi parliamo del ruolo sempre più strategico del panorama dell'iti dei manager service provider gli msp ovvero il fornitore dei servizi gestiti e lo facciamo con matteo brusco che è distribution sales manager italia spagna portogallo di enable al quale chiediamo come prima domanda come evolve il fenomeno msp e quali sono i fattori principali che spingono le aziende oggi a rivolgersi a un manager service provider quello che vediamo è che come enable siamo un'azienda che è sempre molto attenta alle alle esigenze del mercato abbiamo recentemente fatto un report proprio sui sui nostri clienti proprio per avere dei dati analitici di diciamo proprio personali nel senso non ci siamo affidati semplicemente quelli che sono analisti esterni che possono avere indicazioni che possono avere indicazioni magari un po più generiche abbiamo fatto delle domande specifiche alla nostra customer base e una delle cose che è emersa in questa in questa analisi è proprio la solidità di questo mercato la solidità del mercato msp pensate che il 97 per cento circa degli intervistati ha ha dichiarato sostanzialmente che prevede una crescita del fatturato per quanto riguarda i servizi gestiti quest'anno e questo dimostra che questo tipo di richiesta questo tipo di domanda del mercato è sempre più forte e quindi è una è una costante di questi di questi anni veramente diciamo che i i fenomeni o comunque i motivi principali che spingono secondo me anche le aziende a a diventare msp se ancora non hanno intrapreso questo percorso beh sono molteplici si parte cioè si parte sicuramente da quello che è l'aumento dei costi per quanto riguarda le t tutto sta aumentando ma ci sono tante altre cose per esempio ovviamente insieme i costi stanno aumentando fortissimamente la le minacce alla sicurezza e ora ci sono sappiamo bene con con gli due alle porte abbiamo anche un'intensificarsi di quelli che sono le richieste di di compliance o di essere conformi o standard a determinati e a determinati regolamenti si abbiniamo a tutto questo il fatto che la carenza di personale è pressoché universalmente recepita purtroppo nell'ambito it si fa veramente fatica a trovare personale trovare le competenze e aggiungiamoci che la tecnologia non non si ferma mai ed è in costante e continua e rapida evoluzione quindi tutto questo non fa che portare per le per le aziende soprattutto per le pmi ad una fra virgolette impossibilità di potersi gestire in autonomia l'iti ecco che in questo modo un msp diventa veramente la la soluzione per tutte queste aziende per tutti questi problemi perché l'msp fa come lavoro proprio il occuparsi dell'iti dei clienti nel modo più smart possibile e diciamo che in fin dei conti quello che diciamo è che gli msp sono nati per garantire alle pmi la 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 massima tranquillità e questo per quanto ci riguarda è quello che vediamo che continueranno a fare anche per per il futuro quindi siamo siamo molto contenti di questo perché ovviamente cerchiamo sempre di adattare la nostra proposta a quelle che sono le esigenze di mercato ovviamente e in questo quadro quali sono oggi i servizi che si prestano maggiormente al modello msp è nebole sempre siamo sempre al lavoro per per cercare di aiutare i nostri msp e le pmi del che sono i loro clienti a a proteggersi con le con le con le con le nostre soluzioni fornendo contemporaneamente supporto la formazione quant'altro nel rapport che che menzionavo prima che abbiamo sulla ricerca che abbiamo fatto abbiamo abbiamo visto anche che quelle che sono le le aree di crescita tecnologica più importante che sono previste nei prossimi tre anni includono proprio la gestione della della la sicurezza eh in modo sempre più eh più preponderante pensate che l'81 per cento delle degli intervistati prevede comunque una crescita delle proprie soluzioni di sicurezza informatica quindi eh diciamo che per un msp eh eh ovviamente fornire security non è più un un'opzione e diventa diventa veramente il core business delle attività oggi secondo me non si può pensare di essere nell'IT senza essere eh ovviamente fortemente esperti di eh di security ehm sicuramente il il beh anche chiaramente il backup e il disaster recovery sono eh parte integrante di quelli che eh sono i servizi che un msp eh offre e anche perché comunque ancora una volta backup e disaster recovery fanno parte comunque anche eh del concetto stesso della security e il fatto che eh l'attacco eh diciamo gli attacchi l'aumento degli attacchi informatici ha veramente ha veramente superato ogni ogni previsione in questi ultimi anni è veramente molto molto importante per per i nostri MSP eh poter contare su strumenti che li possono eh far stare eh assolutamente tranquilli io torno eh torno a ribadire che eh alcuni di questi alcuni di questi servizi sono decisamente eh fondamentali e importanti guardate noi il nostro il nostro approccio per esempio al backup che è un approccio di tipo eh cloud first è è un approccio che è fortemente eh legato legato alla security cioè noi in partenza eh offriamo questo tipo di soluzione dove dove comunque i dati vengono esternalizzati immediatamente proprio per fare in modo che la superficie di attacco che 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 ogni azienda mette a disposizione di quelli che sono i cyber criminali sia di fatto ridotta perché siamo in una situazione nella quale oramai non è più questo non è più questione di 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 sé ma solo di di quando un attacco eh avverrà e si perpetuerà quindi è fondamentale è fondamentale è fondamentale poter disporre di un ehm un punto sicuro di avere la possibilità di poter ripristinare i propri dati in modo sicuro in modo efficace questo sicuramente è uno delle è uno degli aspetti eh più importanti della della nostra proposizione di oggi eh unito al fatto di quello che stiamo ripeto portando avanti e cioè ehm tantissimo sviluppo intorno al concetto di security e tantissime possibilità offerte ai nostri ai nostri partner anche di poter utilizzare eh servizi erogati da ehm da professionisti della security eh che oggi il l'MSP chiamiamolo standard medio non ha la possibilità di eh di mettere in campo eh usando le solo le proprie risorse quindi da questo punto di vista eh penso che stiamo facendo veramente un ottimo lavoro per concludere due parole sugli MSP nel vostro ecosistema di partner quali programmi iniziative avete sviluppato oppure contate di sviluppare per questa tipologia in modo da favorire il loro sviluppo sul mercato. Bene allora che si tratti di un diciamo di un di un nuovo MSP che che sta partendo in questo momento magari con uno staff di poche persone oppure che si tratti invece di eh di un MSP eh magari molto più grande eh che eroga magari servizi a livello eh nazionale o internazionale che desidera magari eh standardizzare e e scalare le proprie attività. Noi abbiamo delle piattaforme che sono mh progettate in modo tale da eh garantire a tutti questi player la possibilità di avere di avere successo. Noi siamo un'azienda che funziona solo ed esclusivamente se i nostri partner diventano delle aziende eh di successo. È importante anche capire che eh gli nostri strumenti non sono cioè sono estremamente flessibili e scalabili ma eh al di là degli strumenti in sé la differenza secondo me la fa eh l'approccio. Le esigenze di eh un un MSP che sta partendo oggi o che ha iniziato da poco questo percorso non sono le medesime di un'azienda strutturata e molto più grande che magari sul mercato da anni. Ed è importante quindi capire queste eh queste differenze. Noi abbiamo abbiamo creato all'interno di quello che il nostro eh portale che si chiama Enable.me la possibilità di andare a a a diciamo a fornire l'assistenza e l'aiuto eh anche dal punto di vista dello sviluppo business. Quindi non solo formazione tecnico, formazione sui prodotti ma anche formazione di business. Cioè come eh creare i propri servizi, cosa metterci dentro, quanto eh quanto farli pagare. Che sono le domande che servono tantissimo a chi ha l'esigenza magari di partire in questa in questa modalità. Ma abbiamo anche affiancato eh tutti quei tutti quei percorsi che servono per chi è diciamo a metà strada o per chi è già ad un livello molto più avanzato nel quale per esempio l'automazione gioca un ruolo fondamentale. Abbiamo eh quindi abbiamo diciamo diverse attività e diversi programmi messi 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 in piedi per ehm eh diciamo per cercare di eh alimentare quello che è il successo dei eh dei nostri clienti. Noi ci ci affidiamo eh a cinque distributori eh italiani che supportano eh costantemente i nostri partner in lingua locale quindi italiano e aiutano eh a a formare anche gli MSP su come utilizzare i nostri prodotti per come fare tutte quelle che sono le attività che eh che sono propedeutiche da avere successo. Abbiamo abbiamo un team che si chiama EdNerds eh che è che è pensato esclusivamente eh per fornire incontri formativi eh su su come migliorare l'utilizzo delle piattaforme, su come risolvere problemi di carattere generale, di come eh risolvere al meglio eh questo tipo di problemi e pensate abbiamo messo all'interno di questo di questo portale anche un ehm una soluzione che si chiama eh Market Builder che è una soluzione che addirittura è pensata per offrire eh gratuitamente ai nostri ai nostri partner la possibilità di di fare anche attività marketing e quindi di eh divulgare le proprie proposte. Ma attenzione eh non è solo un concetto di strumento per fare un qualcosa. Noi contribuiamo attivamente, abbiamo creato eh i materiali, i contenuti che i nostri clienti possono utilizzare per far conoscere al proprio pubblico i loro servizi e sono contenuti pensati per i clienti degli MSP quindi proprio che vanno esattamente nella direzione di quello che magari tante volte i nostri partner, soprattutto quelli un po' più piccoli, non hanno le risorse interne per fare. Quindi ecco crediamo di di star facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista e crediamo di essere un un vendor che che si differenzia sul mercato anche per eh anche per questo tipo di attività. ringraziamo quindi Matteo Brusco di Enable per questi interessanti spunti e alla prossima occasione. Grazie a tutti e un saluto a tutti gli amici di Channel City.